Mi scusi, allora lei risponde che si procederà a una concessione in uso, ma anche quella di adesso dove? Cioè, voglio dire, la domanda adesso non mi vorrei ripetere, la domanda è chiara, quali sono gli intendimenti? Gli intendimenti, la concessione in uso, c'è già l'una, risca del giugno, siete intenzionati a settembre di fare un'altra concessione in uso di manno? Volete fare una concessione da tre anni, da dieci, da venti? Questa è la domanda. Cioè, voglio dire, Assessore, lei sarà stato perché si è sovbarcato la risposta, no? Cioè, voglio dire, non ci sta, non è Assessore, adesso è come la bozzina dove la riman forte. Ma che risposta è questa? Qualsiasi concessione di qualsiasi lunghezza è una concessione d'uso, altrimenti si chiama vendita. Cioè, questo è il bene immobiliare più importante di questo comune. Questa non è una risposta. Perché? Voglio dire, non credo che l'amministrazione dei parenti di non fare nessuna concessione d'uso. Ma che risposta è questa? Cioè, voi avete avuto quasi un anno di tempo per pensare a cosa fare. Perché sapevate già, lo sapevano, lo sapevano, l'anno scorso, i problemi, i ritardi di pagamento, va bene, tutto quello che c'era stato. Poi si è avviata questa interlocuzione con la nuova San Benedettese, voglio dire, e comunque dopo quasi un anno questa amministrazione non sa che cosa fare. Cioè, non so, sindaco, mi vuole rispondere lei, perché guardi, è veramente sbagliato con i non patriosti. no, cioè, scusi, allora, no, no, Presidente, io ho fatto una domanda, la risposta non c'è stata. No, poi c'è stata no, poi c'è stata che? Cioè, io faccio una domanda, faccio il consigliere comunale, mi rivolgo a una stizia dove non ci sono gli assessori, ne rimane uno, che non risponde, che non risponde. Cioè, si alza, va via, assessore. Io mi ho fatto una domanda difficile, io mi ho fatto una domanda di una banalità estrema. Allora, forse faceva meglio il dire, non lo so, aspettiamo che torni l'assessore Calmanelli, ma siccome c'è anche il sindaco, cioè, a domanda dovete rispondere. Una qualche idea che la sarebbe l'altra, o no? Lo vendiamo. Allora, consigliere Parloci, per la conclusione che è questo. No, quasi. Sì, sono soddisfatto, comunque, basta. Allora, assessore, io ho, io, assessore, io, assessore, io dico di reputa, se l'hanno lasciata sola, se l'hanno lasciata sola, perché voglio di raccatturare, guarda. Mi scusate, sono tre minuti, sono scaduti, è ora che si è spazzita. Addirittura, 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 guarda, fate per tutti una o due parti. Addirittura, ma qua dì lei sta facendo una vittura. Allora, veramente, senza imputare il città, non veste vado. Senza imputare il città, non veste vado. Viene solito, questo è il sintomo. Viene subite, viene subite, metiterà il concilio colpulato e metterà. E' corso, e' corso, non fare una nuova, è un po' di risposta. No, basta, sta ascoltando, basta. No, basta, sta ascoltando, è un momento, io non sono studiato. Ma chi è? Presidente, scusi, io giungo a conclusione. Assessore, queste licenze se ne prendono un partnato. E se lo ricordi, ha capito? Lei ha anche un maleducato. E del Consiglio sta parlando, lei non si ha, sei ragione. No, non lo so, io sono qui. Presidente, Presidente, preso atto che l'assessore non ha risposto alla domanda per cui devo dire se è stato un figlio. Ora, 20 e 15 secondi.